Gara di Champions League tra Napoli e Borussia Dortmund Diamo lettura delle informazioni, cominciando con il Borussia Dortmund Diamo qui nel San Paolo Stadio, oggi abbiamo il cerchio di schnelle di Premier League tra Neafel e Borussia Dortmund Wir folgiamo le informazioni di Borussia Dortmund Per il numero uno, numero uno, numero quattro Numero vier, numero sei, numero sei, numero nove Lewandowski, numero dieci numero 12 Reus numero 15 numero 16 numero 18 numero 19 numero 29 a disposizione dell'allenatore con il numero 20 numero 7 numero 17 numero 21 numero 23 Schilla numero 30 Vinja con il numero 37 Giu Napoli con il numero 25 Pepe con il numero 18 Camilo con il numero 5 Miguel Agana con il numero 33 Raul Mario con il numero 11 Cristiano Marco con il numero 88 Goccan Viver con il numero 85 Balada Geragli con il numero 24 Lorenzo Viver con il numero 17 Marco con il numero 7 José e con il numero 9 Gonzalo a disposizione a disposizione Raffa Benintessa con il numero 1 Rafael Cabral con il numero 14 Tres Martens con il numero 16 Gian Domenico Mesto con il numero 19 Loren con il numero 20 Tres Zemagli con il numero 27 Pablo Barbero e con il numero 28 Paolo Cannavero Benvenuti nell'arena di fuori grotta sempre e comunque forza e Bob Capal Goccan e Antonio Poi 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 Grazie. 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 Ho visto la vista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.